A volte quando qualcosa va storto poi diventa meglio ed è quello che è successo a questo progetto sul design e la violenza di cui ho parlato stasera al Teatro Pier Lombardo. Ho parlato del rapporto strano e ambiguo che c'è tra oggetti di design e invece la violenza che possono avere come conseguenza se uno non controlla abbastanza. Il fatto che i designer dovrebbero avere una prospettiva sul mondo che li rende più responsabili. Ovviamente non è stato tutto così cupo, ci sono anche dei momenti di grande speranza quando i designer sanno di poter annientare, di poter attemuare la violenza attraverso il proprio lavoro.